Allora, con Lapo Salvetti, sorriso, maglia bagnata è un buon segno perché vuol dire che Firenze festeggia una promozione in Serie B, coach veramente bella, soffertissima, due overtime, una battaglia infinita, che sensazioni hai? Una sensazione incredibile, cioè io non ci credo ancora, il gioco di riso sta fantastico, abbiamo vinto, finalmente a Firenze abbiamo vinto un campionato da 15 anni, noi abbiamo un presidente che è un folle, che è l'unica persona che a settembre era convinto che noi si potesse vincere questo campionato. Io, che si è vinto la partita ora, ancora mi sembra perché è stata una partita dove con tantissimi capovolgimenti di fronte, noi a un certo punto l'avevamo vinta sul più 6 ma abbiamo sbagliato i tiri liberi e poi alla fine, alla fine del primo supplementare c'era un fallo a rimbalzo che però gli arbitri hanno deciso che fosse a tempo scaduto, quindi in fondo abbiamo fatto anche fatica a giocare a Palacanesto, però ragazzi il merito di tutti questi giocatori, vincere un campionato così con tantissimi ragazzi, Ravaglietti si è caricato sulle spalle della squadra, ha fatto tantissimi punti, Santomieri alla fine ha fatto il canestro, la vittoria, due tiri liberi alla vittoria, ripeto voglio ringraziare i giocatori perché questa è una vittoria incredibile veramente. La vittoria incredibile è una cavalcata infinita oggi, era la 77esima partita, se si somma anche tutte quelle dell'Under 20 dei ragazzi sono arrivati anche un po' cotti alla fine, però vincerla così soffrendo credo ti dia ancora più gusto. No, è sicuramente una soddisfazione, però secondo me la nostra stagione sarebbe stata da giudicare positiva anche se oggi mi avessimo perso, perché poi alla fine bisogna avere fortuna, fortuna che noi l'anno scorso non l'abbiamo avuto con il gruppo dell'anno scorso, perché perdemmo delle partite anche in maniera un po' rocambolesca, invece oggi l'abbiamo avuta fortuna, perché un pallone che esce, un pallone toccato, sotto tre nel primo supplementario la Baglietta ha fatto un canestro da otto metri, incredibile, cioè questo gioco bisogna avere fortuna e noi quest'anno l'abbiamo avuta, l'abbiamo avuta però ce la siamo meritata, perché partire come abbiamo fatto noi con tanti ragazzi, non consideratene a nessuno, facendo anche le partite dell'Under 20, i giocatori sono cresciuti durante l'anno, sono stati bravi lo staff che abbiamo a disposizione, il preparatore, la face, i miei vice allenatori, Poggi e Corsini, perché abbiamo fatto un lavoro eccezionale, quindi da questo punto di vista la squadra è cresciuta piano piano, è cresciuta, è cresciuta, ha preso fiducia, i giocatori oggi Merlon aveva giocato a Cagliari, l'ha fatto due cose da super, cioè e nonostante tantissimi infortuni, perché noi anche l'ultimo infortunio di Nardi ci ha pesato, Dionisi si è rotto il crociato due mesi fa, ci ha pesato, però l'abbiamo portata via e spero che per Firenze questo possa essere, come dire, un momento dove abbiamo fatto un salto di categoria senza pastrocchi, senza pastrocchi sul campo e sul campo noi bisogna, come dire, rendersi conto che al di là che si gode di più, però può far crescere tutto, può far crescere la società, questo è successo, i giocatori, tutti quanti, quindi bene così.